Oh Madre Maria Pia, aiutami in questo triste momento, come è sempre fatto. Aiutami affinché il Signore accolga la mia preghiera e ridai la vita a lui. Ridai la vita a questo bambino. Non è così, tu rimani là, ti passiamo. Ma c'è un momento. Oh Madre Maria Pia, aiutami in questo triste momento, come è sempre fatto. Oh Madre Maria Pia, aiutami affinché la mia preghiera salga fino al cielo. Fa che il Signore ridoni la vita a questa bambina. Oh Madre Maria Pia, aiutami in questo triste momento, come è sempre fatto, affinché le mie preghiere arrivino in alto, fino al Signore, fino al cielo. Oh Madre Maria Pia, aiutami ad avere un po' di memoria in più, perché non riesco a farla.